Sibyl presenta caro vecchio bollettino una storia sulla semplificazione dei pagamenti con Bruno e Sibyl lui è Bruno e oggi ha deciso di pagare un bollettino pensa che dovrà uscire di casa e starà molto tempo in fila ma da oggi Bruno con Sibyl puoi pagare facilmente le tue bollette come? accedi al tuo internet banking vai alla sezione pagamenti seleziona Sibyl scegli l'azienda fatturatrice e inserisci il codice identificativo del bollettino e l'importo da pagare hai visto Bruno semplice e veloce Sibyl è accessibile da pc da smartphone tablet sportello e atm scopri di più su www.sibyl.it